Allora, buon anno ragazzi, qui è Cosina, c'è Archeus di Ripocamon, scusatemi, ho l'ansia per domani che devo andare a Venezia, scusatemi. Allora, quest'oggi, per l'anno, permessa, il video è fatto per scherzare, non è, è anche per far ridere. Dai, cominciamo. Appena parte. Sono sei mesi che guido st'astroname e nessuno si è accorto che non vedo un cazzo di niente, bene così, il lato è oscuro. Ma ricogliorini, son nuvole, mica culi, girate, mambo Natale, scendi da sto cammino, dato cazzo. Giusto, è mambo Natale, è Gianatale, che non vedo questo. Non ho capito cosa ha detto, ma perché? Perché? Mi è accorto che non vedo un cazzo di niente, bene così, il lato è oscuro. Giusto. Ma ricogliorini, son nuvole, mica culi, girate. Ma buon Natale, scendi da sto cammino. Beh, in effetti, il Natale è già finito, quindi se la motale è rimasto incastrato, deve scendere. Cosa ha detto bestemmiotto? Vabbè, intanto, per dire le cose, beh. Porti, sono un cioccolato duro! Reggiti bestemmiotto! Ma che cosa, porco! Bravo che è l'orelle, questa è vita. Ma a caso c'entra Batman World Star Wars? Bello! Che male. Cocomeri! Giusto, ma che cazzo ha detto? Rissentiamolo, vediamo un po' che cosa ha detto. È arrivato, distruggerò il tuo urano. Uranio. È, urano. Non so male. Vai. Il mio segnale è l'ocerico come? Riccardo Caporano, Obama. Ha detto Bracco Obama. Cos'è? No, quindi è americano, Bracco Obama. E poi cocomeri, lanciare se ti fai male, Yost. Che cazzo ha detto? Chi è questo? Bacchino, vallo! Ah, certo. Non è la sola cosa che potrai accenderti. Guarda, mi ti chiede. Guarda, mi ti chiede. Ma io sono un patrini. Bravo Capito Rebbe. Cosa? Ma lei è un bacino, come vedi morchiare, Rebbe. Che è questo? Bacchino, vallo! Non è la sola cosa che potrai accenderti. Guarda, mi ti chiede. Guarda, mi ti chiede. Ma io sono un patrini. E io... Andiamo giù e facciamo fuori quegli strozzi. Io sono Grullo e guardo la mia rifaccia. Perché guardi alla galassia ruttico come in Star Wars? Ma perché? E infatti, cosa c'è tra Grullo e dei Pokémon? E poi cos'è? Perché che Loren vuole una limousine buttanelle e vuole anche Ray? Guarda Ray, sembra che c'abbia la Pip-Up. Che potrai accenderti. Guarda, mi chiede. Guarda, mi chiede. Voglio solo un patrini. Andiamo giù e facciamo fuori quegli strozzi. Io sono Grullo. 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 Aia. Voglio andare a casa. Allora, qui si. Cosa? Facciamo un cappuccino. Ti va? Dacci dentro. Giusto? Per precauzione. Usa la pillola. Una pistola, ricoglionita. Ha detto ricoglionita? No, usa le pillole. Che bello. Rifacciamolo. Questa volta le interruzioni. No, vabbè. Eh, io sto... Eh. Perché è proprio... V.Panelle. 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 Facciamo un cappuccino Usa le pillole, gli ost Vabbè Quanto è durato Questo è il video Prova a non ridere challenge con la parola di Star Wars Spero che vi sia piaciuto Ancora una volta buon anno E domani parto Perché vado a Venezia Quindi Non credo che farò tanti video A Venezia perché devo uscire Entrare, uscire Quindi Farò le foto e ci farò un video intro Merch sopra Quindi buon anno ancora E ci vediamo in un prestissimo video Ciao